Sono Fabio Morzano, vengo da Tuglie, lavoro a Sarece Salentino, questo è il romanzo. Oggi sto presentando un drink, si chiama Salento Night, e è a base di assoluta famiglia. E' un prodotto originario, invece proprio del nostro Salento, ben cotto primitivo. Lavoro in Castello Monanzi? Si. Appinato da una spremuta, daraccia presso. Ti fanno richieste particolari di totteri, quello lì in quel posto? No, no. Si e no. Dipende molto dal tuo tipo di servizio. Spesso ho la classica richiesta, fai tu, lo so. Altre volte ho il piacere di poter soddisfare delle richieste più specifiche. E il cocktail che ti piace di più a te, in questo? Io sinceramente, in questo periodo, per lo spesso legheri. Sono un amante del secco. Oggi il cocktail, come decorazione, ha un braccio di vaniglia, che serve anche a dare comunque aroma. E' una fettina d'artice. Molto semplice, molto estivo. L'ho fatto comunque pensando, proprio alle serate estive nel Salento. Profumi di arancia, di vaniglia. Santa Caterina. Santa Caterina, Gallipoli. Applauso.